Buon pomeriggio amici sportivi e tifosi del Savoia, benvenuti a Giuliano Savoia, decima giornata di campionato interregionale Serie D, Girone e Gini, siamo qui dalle destra di sinistra e si parte, con il primo pallone toccato dalla Giuliano, va De Rosa con la destra, attenzione, polone semplice bloccato da Mola, Meliglio, ancora Meliglio all'indietro per De Rosa, col sinistro di prima dentro per Dancora, attenzione, chiude Stendardo, poi Chiarema Tenga, ancora Dancora, può calciare a destra, la parata di Mola. Vedi Correnti che va a prendersi questo pallone, ottimamente, sul numero 2 Micillo, poi, attenzione, Orlando che passa, Orlando, Dancora, e poi Chiarema Tenga in mezzo, pallone troppo lungo per il 99, sale anche lui, sale il capitano, dentro per De Rosa, un pallone un po' sporco, pallone però passa, attenzione De Rosa, che entra in area, attenzione De Rosa, siamo in area, De Rosa dietro, a cercare Dancora, c'è l'anticipo ancora, miracoloso, di f... attenzione, Riccio, Poziello, palla dentro, attenzione, il colpo di testa di Manzo, Chiarema Tenga, Orlando, parte Meliglio, attenzione, il colpo di testa di Riccio, un pallone che però è alto e sul fondo, Chiarema Tenga, termina qui la prima frazione di gioco, Giuliano a 0, Savoia a 0, De Rosa, Chiarema Tenga, attenzione, Chiarema Tenga, saltato di Siena, Chiarema Tenga in area, attenzione, Chiarema Tenga, palla dietro, Dancora, non riesce a mangiare la sfera, poi, attenzione, Orlando, a Gerardo, di Luca Orlando, Savoia in vantaggio, con il numero 9, Luca Orlando, non riesce a tenere questo pallone, i bianchi passano in vantaggio, la chiusura di Russo, prendersi questo pallone, poi, Correnti, sale Correnti, la giocata di Correnti che salta due avversari, poi tiene ancora la sfera, ancora Correnti, non si appoggia a nessuno, gran giocata, potenzione paradido per Chiarema Tenga, posizione regolare, Chiarema Tenga contro di Siena, Chiarema Tenga sinistro, Giovanni, Chiarema Tenga, Settimo gol, il campionato, dal numero 99, il Savoia va sulla 2 a 0, grandissimo gol di Giovanni Chiarema Tenga, 2 a 0, De Rosa, gran palla dentro per Chiarema Tenga, che è in posizione regolare, attenzione, c'è Esposito in mezzo, palla dentro, attenzione, Esposito! Gennaro, Gennaro, Esposito, segna al ritorno, incredibile, ha segnato proprio il numero 90, Gennaro Esposito, 3 a 0, Savoia, grandissimo gol, assist di Chiarema Tenga, termina qui anche la seconda frazione di gioco, Giuliano 0, Savoia 3, e da Pierpaolo, Milone è tutto!